Gli androni dei palazzi, le strade, le antiche case del centro storico hanno rappresentato ancora una volta la cornice ideale per esaltare l'arte del saper fare artigianale. Si è conclusa con successo la 38esima edizione della mostra dell'artigianato di Feltre, dedicata quest'anno alla figura di Marco Polo nel 700esimo anniversario della morte del grande viaggiatore veneziano. È stata una mostra che ha portato a Feltre l'eccellenza dell'artigianato artistico. Noi siamo convinti di aver portato forse una delle più belle mostre dell'artigianato artistico degli ultimi vent'anni a Feltre. Oltre 150 sono stati gli espositori presenti, protagonisti indiscussi in materiali e in mestieri della tradizione veneta. Per quanto attiene il concorso di forgiatura, ad avere la meglio è stato Andrea Cosci, mentre ad imporsi nel concorso Carlo Rizzarda è stato Gianpaolo Maniero. Numeroso in questo 2024 il pubblico proveniente anche da fuori provincia. L'affluenza è stata molto buona e peraltro anche la qualità della mostra è elevata e quindi anche i visitatori hanno proprio sottolineato questo aspetto, mostra di qualità e soprattutto la possibilità di visitare anche la nostra città. Grazie.